Allora, bambini, siete seduti comodi? Ascoltate. Questa storia ebbe inizio molti anni fa, ma tutto si svolse solo in sette giorni. In quel periodo così lontano nel tempo, tutte le cose che oggi vediamo, il sole, la luna, le stelle, la terra, gli animali e le piante, non esistevano. C'era solo Dio. Perciò Lui è l'unico che può averle create e infatti così fu. Sembravo morta, vero? Ma non lo ero. Non perché non ci avessero provato, intendiamoci. A dire il vero, l'ultimo proiettile di Bill mi mandò in coma. Coma in cui sono rimasta per quattro anni. Al mio risveglio, ho agito spinta da quella che la pubblicità del film definisce una ruggente furia vendicativa. Ho ruggito e mi sono infuriata e mi sono presa tante soddisfazioni. Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. Ma le devo uccidere ancora una. L'ultima. Quella da cui sto andando ora. La sola rimasta in vita. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill. Mi ero sporta e sono scivolata. C'è nessuno qui giù! Serve aiuto, c'è nessuno! Ci siamo! Mio Dio! Vieni di volta! Mio Dio, Jack! Oddio! Oddio! Non lasciare la mia mano! Quando la nave attraccherà, io scenderò con te. No! Rimanga lì davanti! Dico sul serio! Mi butto! Non lo farà! Che significa non lo farò? Non creda di potermi venire a dire quello che farò o quello che non farò! Lei non mi conosce! Beh, l'avrebbe già fatto! Lei mi sta distraendo! Se ne vado! Non posso! Ormai ci sono dentro! Lei mi sta distraendo! Lei mi sta distraendo!